risalita c'è con noi qualcuno vabbè stai di qua allora appena apre i cancelletti fuori via facci qua ragazzi leitner schneuerstock fermi qua la linea gialla arriva leitner ecco la mano tu il coso tu tienimi un attimo i guanti che lì con la non si è subito arrivato ma vai è corto tieni i guanti cercherò ragazzi di leggere cosa c'è scritto qua su questa serie la serie appellate comprensorio scenistico steuerstock si è un game stock ragazzi non confonditelo con il game stock allora ok ragazzi grazie allora l'impianto schneuerstock flyer si giochina da 6 persone una eh leitner come abbiamo detto del 2017 non sostituisce niente è semplicemente un impianto nuovo che ci porta allo schneuerstock un guanto alla volta per favore nonostante nonostante a tuo ma che nonostante 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 i nostri impianti preferiti è lunga ragazzi arrivare di là penso si arriva in un attimo perché qua da poco c'è la pista rossa, 30 dove eravamo con The Mr. MG Star non è questa questa va a Nechen andiamo a fare quella che va di là ragazzi la qua non è la pista 30 sa qui c'è la sua spalla no dove? eccola lì ragazzi la funivia Schneuerstock la nuova funivia che collega l'Oberhalt con Schneuerstock ormai qua ragazzi tutto finisce in in stock che è Gamestock anche quello finisce finisce in stock è molto difficile da leggere raga Schneuerstock ah ecco sono fatta raga vedete la funivia del materiale 2600 metri posta ecco raga eccoci 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 raga